Questa puntata del Plutonia Publication Podcast vuole essere una sorta di spin-off della puntata 55 del Lost Boy Show andata in onda recentemente perché, come avrete visto dall'icona della puntata stessa, da Franco Bollo, parleremo dell'uomo tigre Innanzitutto bentornati sul mio podcast, io sono Alessandro per chi ancora non mi conoscesse sono scrittore, youtuber, podcaster, porto avanti diversi progetti con la mia partner Alberica Sveva Simeone e ci trovate appunto su Youtube, sui social, su Telegram e in podcast Podcast in particolar modo è uno strumento che a me piace parecchio perché ne faccio uso massiccio Dicevo, nella puntata 55 del Lost Boy Show ci siamo occupati dei quei cartoni animati tacciati di essere violenti e diseducativi e abbiamo detto la nostra Uno di essi è senz'altro l'uomo tigre, l'uomo tigre che abbiamo visto un po' tutti, noi che non siamo più proprio giovanissimi e che ci ha colpito sicuramente per l'estrema violenza, questo non si può negare ma anche per la storia matura, matura struggente per certi versi drammatica di Naoto Date, l'uomo tigre appunto e tutto il suo percorso di redenzione di lotta contro un'organizzazione criminale, Tana delle Tigri e infine di sacrificio ma veniamo a qualche dato allora, l'uomo tigre, Tiger Mask, è un manga di Ikikaiwara illustrato da Naoki Tsui pubblicato in Giappone dal 68 al 71 dal manga sono state poi tratte tre serie anime prodotte dalla Toy Animation e destinate a un pubblico adulto questo sì, loro che in Italia sono arrivate come dicevamo appunto con Sveva genericamente come cartone animato e quindi buttato in pasto ai ragazzini di qualunque età la prima serie è del 69 la seconda è dell'81 e la terza che non ho mai vista è del 2016 tutte le versioni dell'opera manga e anime hanno riscorso un grande successo c'è poi anche un live action del 2013 ma anche questo non l'ho visto concentriamoci sull'uomo tigre quello che è arrivato da noi nei primi anni 80 82 se non sbaglio attraverso le reti locali mai sulla Rai mai su Fininvest 105 episodi ciascuno all'incirca di 22 minuti protagonista è Naoto Date un orfano cresciuto dopo la fine della seconda guerra mondiale un giorno facendo visita a uno zoo insieme ai compagni di orfanotrofio alla vista della gabbia quei grandi felini capisce di voler diventare forte e ineluttabile come una tigre per combattere le ingiustizie nei confronti degli orfali come lui quindi fugge, lascia i compagni attoniti, increduli e incontra un emissario dell'organizzazione Tana delle Tigri un'associazione malavitosa che addestra lottatori di wrestling provenienti da ogni parte del mondo un'associazione spiatata però che insegna i wrestler a fare del male l'avversario se necessario anche a ucciderli Naoto viene portato sulle Alpi dove ha la sede Tana delle Tigri e lì trascorre dieci anni sottoponendosi a allenamenti durissimi crudeli, spiatati una volta diventato adulto comincia a combattere come gli è stato insegnato quindi a combattere in modo feroce e dopo essersi fatto una fama di lottatore appunto violento, sanguinario negli Stati Uniti dove viene soprannominato Diavolo Giallo torna in Giappone e anche qui inizialmente dimostra la sua crudeltà esiste però una legge di Tana delle Tigri per cui ogni lottatore ha l'obbligo per tutta la sua vita professionale di inviare la metà dei suoi compensi all'associazione chi disobbedisce viene considerato un traditore e subisce punizioni terribili come la morte o menumazioni più o meno gravi Naoto Date torna a far visita a quello che è stato il suo orfanotrofio e decide così, per questo motivo di non rispettare l'obbligo nei confronti di Tana delle Tigri e di aiutare invece gli orfani dando loro il denaro vinto con gli incontri dopo aver salato il debito dell'orfanotrofio con uno strozzino prende a combattere onestamente anche per non influenzare in modo negativo i suoi nuovi giovani ammiratori in questo modo inizia una lunga serie di sfide mortali contro i Vrester mandati a sfidarlo da Tana delle Tigri sfidarlo sul ring non sono solo Vrester però sono sicari che hanno l'ordine di punire in ogni modo il suo tradimento e quindi non solo di sconfiggerlo sul ring ma di ucciderlo Uomo Tigre combatte con tutte le sue forze per sopravvivere per liberarsi di questa organizzazione criminale nel frattempo grazie alla sua condotta ora onesta sul ring partecipa anche ai campionati mondiali di lotta libera e ingaggia dei combattimenti con altri lottatori che vogliono misurarsi con lui la serie ha un crescendo appunto di sfide sempre più difficili spesso con più lottatori e con lottatori davvero spietati finché entrano in scena i boss di Tana delle Tigri che vedendo che i loro lottatori anche più abili non sono riusciti a liberarsi di Uomo Tigre scendono in campo personalmente essendo loro stessi dei wrestler e decidono di confrontarsi con Uomo Tigre e qui verso un finale veramente sanguinolento c'è uno scontro che obbliga Uomo Tigre a combattere ancora con violenza con scorrettezza per poter sopravvivere allo scontro col boss di Tana delle Tigri e quindi a decapitare l'organizzazione stessa uccidendo il capo questo però mette a nudo ancora una volta la crudeltà non la crudeltà la ferocia appena appena repressa di Naoto che si sopravvive si vince ma viene smascherato e si mostra in tutta la sua potenza e la sua capacità di fare del mare agli avversari anche davanti ai ragazzi dell'orfanotrofio che come sempre sono davanti alla tv per ammirare le gesta del loro eroe quindi è un come avete capito ma come sapete sicuramente non vi ho ripetuto nulla di nuovo è un anime tipicamente giapponese maturo quindi con un personaggio in sfida contro da solo spesso da solo contro molti nemici che fa un percorso di redenzione attraverso anche il sacrificio anche il sacrificio personale la popolarità di questo personaggio in Giappone ha spinto diverse federazioni a creare delle gimmick di Tiger Mask ispirate al personaggio del fumetto ma non solo la curiosità è che nel corso degli anni si sono verificate in Giappone donazioni e regali anonimi a diversi orfanotrofi firmati col nome di Daoto Date quindi per la serie quando un cartone animato non è che ti ispira violenza bensì ti ispira attraverso una storia violenta a fare anche del bene magari questi donatori anonimi sono persone che sono cresciute con l'uomo tigre e che hanno imparato da lui il valore appunto dell'onestà del sacrificio del fare del bene e del fare del bene appunto anonimamente perché Naoto non voleva rivelare la sua vera identità ai giovani dell'orfanotrofio bensì presentarsi solo appunto come un lottatore mascherato una sorta di supereroe se vogliamo in Italia è stata distribuita appunto dall'82 solo su reti locali fino al 2005 e poi dal 2010 in onda sulla rete satellitare manga c'è anche una seconda serie presentata in Italia come il nome di uomo tigre 2 con un buon successo ma sicuramente molto meno iconica molto meno anche violenta che a me non ha lasciato un granché tuttavia entrambe le serie sono state trasmesse più volte in Italia in modo piuttosto regolare per i successivi 20 anni insomma l'uomo tigre è una parte integrante alla nostra cultura pop e non solo penso che anche i vostri genitori mi riferisco appunto a gente più o meno della mia età abbiano visto magari rimanendo un po' perplessi almeno una puntata o due dell'uomo tigre perché noi le vedevamo tra l'altro come dimenticare la sigla italiana di apertura e chiusura l'uomo tigre dei cavalieri del re scritta da Riccardo Zara una canzone che è ancora oggi iconica insomma l'uomo tigre si trova qualcosa su youtube qualche episodio ho fatto un po' di ricerche per registrare questa puntata si trova sicuramente appunto la sigla si trovano soprattutto gli episodi finali in cui l'uomo tigre perde la maschera un finale drammatico assolutamente riuscito e poi c'è tutto un filmatino un spezzone di un minuto e trenta in cui si spiega in sintesi cos'è Tana delle Tigri che è un'organizzazione immaginaria rimasta anche questa però saldamente nel cuore come cattivo come società segreta di cattivi nel cuore di tutti gli spettatori non solo italiani oserei dire i metodi di allenamento di Tana delle Tigri erano di una crudialtà anche bizzarra ma sicuramente notevole soprattutto per chi si approcciava a questo cartone animato da ragazzino come abbiamo fatto noi e va bene va bene questo vuole essere appunto un appuntato omaggio forse non vi ho rivelato nulla di nuovo potendo fare un lungo escurso sui lottatori più strambi che hanno sfidato in autodate mi ricordo le tre tigri mi ricordo Pantera Nera mi ricordo Piragna erano veramente sembrano più dei mostri che dei lottatori c'è stata tanta tanta ci hanno messo tanto lavoro di fantasia per chiarare gli sfidanti dell'uomo tigre e devo dire che il lavoro è stato assolutamente ben fatto perché sono rimasti anch'essi piuttosto iconici nella mente di tutti noi ripeto cercateli su youtube qualcosa si trova ed è un bel vedere va bene io vi saluto fatemi sapere se avete un mutuo modo di vedere l'uomo tigre se quindi siete di quella fascia di ascoltatori del mio podcast che va diciamo dai 35 in su fino ad arrivare ai 60 o se ne avete solo sentito parlare e non l'avete mai visto poi vi invito a recuperare appunto la puntata pluricitata dell'hostboy show e a iscrivervi ai nostri canali canale telegram dell'hostboy show ma anche quello di plutonia dove parlo anche di libri scrittura e di cose che scriviamo e pubblichiamo vi saluto vi do appuntamento ai prossimi episodi e buona visione buon rewatch dell'uomo tigre perché so che qualcuno di voi adesso è venuto a voglia di farlo